Nella sua lunga carriera, iniziata in teatro accanto a Vittorio Gasmani in Edipore di Sofocle, ha lavorato con alcuni dei più grandi attori e registi italiani come Giorgio Streller e Lucchino, Visconti, e con Gino Cervi, in particolare, con il quale è protagonista di diversi episodi delle serie televisive e le inchieste del commissario. Megre nelle vesti dell'ispettore Lucas, il 27 dicembre 2005 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica.